rispondere alla domanda che primo maggio è quest'anno visto che le infortuni in particolare i numeri sono stagelati siamo a dieci anni dall'apertura ufficiale della crisi perché sembra datata e quindi sono stati la bellezza di dieci anni e si comincia a dire siamo fuori dalla crisi. Io credo che questo primo omaggio per il mondo del lavoro sia un po' una giornata fatta per leccarsi le ferite e per celebrare l'uscita della crisi. Mi sembra che ci siano certamente dei segnali positivi ma mi sembra che mano a mano ci si sveglia, si si accorge che in questi dieci anni sono cambiate tantissime cose.